Adesso leggiamo un altro grande racconto breve di un autore che ha soprattutto lavorato nell'ambito della fantascienza, il grande Ray Bradbury, autore americano di tantissimi libri e di una antologia strepitosa, Il grande mondo laggiù, che è questa qua. Da qui vi leggerò L'immensità, un racconto che è sospeso tra il qui e il molto distante, tra il passato e il futuro. L'immensità. Oh, infine il buon tempo è venuto. Era il crepuscolo e Genis e Leonora imballavano alla cremente nella loro casa estiva, cantando, mangiando poco e aggrappandosi l'una all'altra quando era necessario, ma non guardavano mai la finestra, dove la notte si addensava profonda e le stelle spiccavano fredde e lucenti. Stanno facendo i bagagli, perché qualcuno dovrebbe partire. Ascolta, disse Genis, il suono come di un battello a vapore sul fiume, ma si trattava di un razzo nel cielo, e oltre quel rumore, suono di peggio? No, solo i grilli. In quella notte estiva dell'anno 2003, che ovviamente era il futuro quando scrisse questo racconto, negli anni 50, 10.000 suoni alitavano attraverso la città e il tempo. Genis, a testa china, ascoltava. Molto, molto tempo prima, nel 1849, in quella stessa strada erano riecheggiate le voci dei ventrilo, dei predicatori, degli indovini, dei pazzi, degli studiosi, dei giocatori d'azzaro, raccordi in quella medesima città di Independence, nei Missuri, in attesa che la terra umida germinasse e che le grandi distese d'erba si facessero abbastanza forti da sostenere il peso dei loro carri, dei loro carrenti, dei loro destini e dei loro sottili. O, infine, il buon tempo è venuto, su Marte andiamo, signore, 5.000 donne verso il cielo, questo sì che è un ricco raccolto, signore. È una vecchia canzone dei Wyoming, disse Leonora. Basta cambiare un paio di parole e va bene anche per il 2003. Genis prese, perché ovviamente è aggiornata, no, al trasferimento su un altro pianeta. È chiaro che nel 1849 non l'avrebbero potuta fare una canzone così. Genis prese una scatoletta di cibo in pillole. Se volete fare un racconto di fantascienza è sempre utile inserire dettagli come questi, cibo in pillole, già dall'idea che siamo nel futuro. Calcolando le cose che erano state trasportate in quei carri dalle fiancate alte e dalle ruote immense, per ogni uomo e ogni donna, quantità incredibili, prosciutti, blocchi di lardo, zucchero, sale, farina, frutta secca, pane e pilota, acido citrico, pepe, zenzero, un elenco lungo quanto la terra, mentre qui oggi, pillole che entravano in un orologio da polso, nutrivano un uomo non da Fort Laramie a Endtown, ma attraverso un intero deserto di stelle. Genis spalancò lo sportello dell'armadio e per poco non cacciò un urdo. L'oscurità e la notte e tutti gli spazi fra le stelle la guardarono. Molti anni prima erano successe due cose. Sua sorella l'aveva rinchiusa urlante in un armadio e a una festa, mentre giocava al nascondino, lei aveva attraversato di corsa la cucina e aveva imboccato un lungo corridoio buio, ma non era un corridoio, era una tromba di scale non illuminata, un'oscurità risucchiante, lei era corsa su un vuoto d'aria, aveva pedalato coi piedi, aveva urlato ed era caduta, caduta in un buio color pesce, nella cantina. C'era voluto molto un battito di cuore per cadere e in quell'armadio lei era rimasta a lungo, a lungo, senza luce, senza amici, senza nessuno che sentisse le sue grida, lontana dal tutto, chiusa nel buio, urlante, i due ricordi. Ora, con lo sportello dell'armadio spalancato, con il buio simile a un sudario di velluto steso davanti a lei per essere toccato da una mano tremante, con il buio simile a una pantera nera che respirasse là dentro, fissandola con occhi spenti, i due ricordi riaffiorarono con forza. Spazio e una caduta, spazio e lei chiusa urlante. Lei e Leonora lavoravano alacremente, imballando la roba, attente a non guardare fuori dalla finestra verso la parosa, via Latte e il vasto vuoto. Solo per trovarsi con il vecchio armadio che, con la sua notte privata, ricordava loro quale destino le attendeva, cioè il buio. Così sarebbe stato là fuori salire verso le stelle nella notte nel grande e orribile armadio nero, urlanti, senza che nessuno le sentisse, cadendo in eterno tra nubi di meteore e comete pagane. Giù per la tromba dell'ascensore, giù per l'incubo dello scarico del carbone nel nulla, Genis urlò, dalla bocca non uscì alcun suono, l'urlo si scontrò con se stesso nella sua testa e nel suo petto. Genis urlò, sbatté lo sportello dell'armadio, ci si appoggiò contro, sentì il buio alitare e premere contro lo sportello e lo tenne fermo, con gli occhi che le si riempivano di lati. Rimase così a lungo finché il tremito non scomparve, a guardare l'onora che lavorava e l'attacco esterico così ignorato si scaricò lentamente e alla fine scomparve. Nella stanza un orologio ticchettava con un suono pulito di normalità. 60 milioni di miglia, finalmente si avvicinò alla finestra come se fosse un pozzo profondo. Non riesco a credere che gli uomini su Marte stasera costruiscano la città in attesa del nostro arrivo. Il 2003 è un futuro in cui gli uomini sono approdati su Marte e hanno iniziato a costruire una colonia, evidentemente. 60 milioni di miglia. L'unica cosa da credere è che domani dobbiamo prendere il razzo. Genis sollevò un abito bianco che nella stanza pareva simile a un fantasma. Strano, strano, sposarsi su un altro mondo. Cioè lei deve andare a sposare il suo ragazzo su Marte. Andiamo a letto? No, la telefonata arriva a mezzanotte. Non riuscirei a dormire. Continuerei a pensare, come dirò a Will, che ho deciso di prendere il razzo Marte. Oh, Leonora, pensa. La mia voce che percorre 60 milioni di miglia sul telefono luce fino a Will, che evidentemente è un mezzo di collegamento tra Marte e la Terra. Ho cambiato idea così in fretta che ho paura. La nostra ultima notte sulla Terra. Ora lo sapevano realmente, lo accettavano. Ora la consapevolezza si era fatta strada in loro. Stavano per partire e forse non sarebbero più tornate. Stavano per lasciare la città di independence, nello stato dei Missouri, nel continente dell'America del Nord, circondato da un oceano che era l'Atlantico e un altro che era il Pacifico. Nessuno dei quali poteva essere messo nelle loro casse da viaggio. Si erano ritratti di fronte a questa consapevolezza. Ma ora se la trovavano davanti ed erano attoni, i nostri figli non saranno americani. E neanche terrestri. Saremo tutti marziani per il resto della vita. Non voglio andare, strillò Genis all'improvviso. Il panico la raggelava. Ho paura. Lo spazio, il buio, il razzo, le meteore. Sparirà tutto. Perché devo andare là fuori? Leonora l'ha presa per le spalle e la strinse gullandola. È un nuovo mondo. È come ai vecchi tempi. Prima gli uomini, poi le donne. Perché? Perché devo andare? Dimmelo. Perché? Disse Leonora, alla fine sottovoce, facendo la sedere sul letto. Perché c'è Will lassù. Il nome di Will era bello da ascoltare. Genis si calmò. Gli uomini rendono tutto così difficile, disse Leonora. Un tempo, se una donna percorreva 200 miglia per un uomo, era già eccezionale. Poi sono diventate mille miglia. E ora hanno messo un intero universo tra di noi. Ma questo non può fermarci, vero? Temo che mi comporterò come una stupida sul drazzo. E io farò la stupida con te, rispose Leonora. Alzandosi. Andiamo a fare un giro per la città. Andiamo a vedere tutto per l'ultima volta. Genis guardò la città fuori. Domani sera tutto questo sarà ancora qui. Ma noi no. La gente si sveglierà, mangerà, lavorerà, dormirà di nuovo, si sveglierà. Ma noi non lo sapremo. E loro non sentiranno la nostra mancanza. Leonora e Genis girarono l'una accanto all'altra, come se non riuscissero a trovare la porta. Vieni. Aprirono la porta, spezzero le luci, richiusero la porta dietro di loro. Nel cielo si susseguirono gli arrivi, vasti movimenti fluttuanti, enormi flulli e fischi, tempeste di neve in caduta, elicotteri, fiocchi bianchi che cadevano piano. Da ovest e da est, e da nord e da sud, le donne arrivavano, arrivavano. Per tutto il cielo notturno si vedevano tempeste di elicotteri che calavano. Gli alberghi erano pieni, le case private facevano preparativi per gli ospiti. Città fatte di tende, sorgevano nelle radure e sui pascoli simili a strani, brutti fiori. E quella sera la città e il paese erano riscaldati a qualcosa di più dell'estate. riscaldati dalle facce rose delle donne e dalle facce bruciate dal sole dei nuovi uomini che scurravano il cielo. Oltre le colline, i razzi provavano i loro fuochi. Non sono simili a un organo gigantesco, con tutti i tasti rubuti contemporaneamente. Faceva tremare ogni finestra di cristallo e ogni fibra nascosta. Lo si sentiva nelle mascelle, nella punta dei piedi, in fremita. Leonora e Genis erano sedute su Dragstore in mezzo a donne sconosciute. Voi, signore, siete belle, ma certo avete l'aria triste, disse l'addetto delle pipite. Due cioccolate al malto, Leonora sorrise per tutte e due, come se Genis fosse muta. Studiarono due pipite alla cioccolata come se fossero state di rari dipinti da un museo. Su un marte, il marto sarebbe scarseggiato per molti anni. Genis frugò nella porza e tirò fuori una busta che con fare il riluttante posò su banco di mare. Me l'ha mandata Will, è arrivata con il razzo postale, due giorni fa. È questa che mi ha fatto cambiare idea. Che mi ha convinta a partire, non te l'avevo detto, ora voglio che tu la vedas. Avanti, leggi il biglietto. Leonora scosse la busta e fece cadere il biglietto e cominciò a leggere ad alta voce. Cara Genis, questa è la nostra casa, se decidi di venire su un marte. Will. Leonora picchiettò di nuovo la busta e una fotografia a colori, lucida, cade sul banco. Rappresentava una casa, una casa scura, coperta di muschia, antica, color marrone dorato, comoda, attorniata di fiori rossi e di fresche fecci verbi e un'edera indecorosamente lunga nel portico. Ma Genis, cosa? Ma questa è la fotografia della tua casa qui sulla terra in Ham Street. No, guarda meglio. E guardarono di nuovo, insieme. E sui due lati della comoda casa scura e dietro ad essa c'era un paesaggio che non era un paesaggio terrestre. Il terreno era di una strana sfumatura viola e l'erba di un rosso molto chiaro e il cielo scintilava come diamante grigio. E da una parte cresceva uno strano albero contorto, simile a una vecchia con dei vetrini nei capelli bianchi. È la casa che Will ha costruito per me, disse Genis, su Marte. Mi aiuta a guardarla. Per tutto il giorno, ieri, quando ero sola e piena di paura sull'orlo del panico, la tiravo fuori, la guardavo. Scrutarono tutte e due la comoda casa scura a 60 milioni di miglia di distanza, freddiare ma sconosciuta, vecchia ma nuova, con una luce gialla che brillava nella finestra di destra accantare l'ingresso. Quel Will, disse Leonora, annuendo, sa quel che fa. Finirono di bere, fuori una grande folla amichevole, disconosciuti, si aggirava l'attorno mentre la neve cadeva copiosa nella giornata estiva. Comprarono molte cose sciocche da portare con loro, sacchetti di caramella a limone, luci delle riviste femminili, fracili profumi e poi andarono a passeggio in città e affittarono due ciubotte e cinghie a cinghie che si rifiutavano di riconoscere la legge di gravità e imitavano solo i moscerini. Leonora e Genis manovrarono i delicati comandi e si sentirono soffiare come fiori bianchi sopra la città. Ovunque, disse Leonora, ovunque carte. Galleggiarono su un immesso sospiro sopra una città resa ciarremota dal piccolo spazio fra loro e la terra. Una città che recedeva dietro di loro in un fiume nero e avanzava in un'ondata di luce e colori e davanti intoccabile e simile al sogno. Già i loro occhi toccata dalla nostalgia con un panico di ricordi che cominciava prima ancora che la cosa fosse in sesso vita. Sospinte pian piano e veggianti scrutarono in segreto centinaia di facci di cari amici che stavano per lasciarsi alle spalle la gente illuminata trattenuta e corniciata dalle finestre che parevano scivolare via col vento tutto il tempo che le sospingevano avanti. Non vi fu un solo albero che non esaminarono alla ricerca di vecchie confessioni d'amore incise sul tronco né un solo marciapiede che non superarono come se si fosse trattato in un campo di neve. Per la prima volta capirono che la loro città era bella e i lampioni solitari e i vecchi mattoni erano belli e tutte e due spalancarono gli occhi perché la festa che si concedevano tutto galleggiava su un carosello serotino con folate improvvise di musica che arrivavano da questa e da quella parte e voci che chiamavano sussurravano dalle case accese dal bagliore biancasto dei televisori. Le due donne passarono simili ad aghi che cucissero un albero all'altro con il loro profumo. Avevano gli occhi troppo pieni di cose eppure continuavano a riporre ogni particolare ogni ombre ogni quercio ogni ormo ogni macchina che passava sempre le loro piccole strade sinumose in basso finché non solo i loro occhi ma anche le loro teste i loro cuori furono troppo pieni. Mi sento come se fossi morta pensò Janice si porta nel cimitero in una sera di primavera e tutto è vivo tranne me e tutti quelli che si muovono e sono pronti a continuare la vita senza di me. È come ciò che ho provato per ogni primavera fino a 16 anni quando passavo dal cimitero e piangevo per loro perché erano morti e non mi sembrava giusto in notti dolci come questa che io fossi viva. Mi sentivo colpevole di vivere e ora qui stasera è come se mi avessero tirata fuori dal cimitero e mi avessero permesso di volare sulla città per un'ultima volta tanto per dimostrarmi che cosa significa essere vivi che cosa significa essere una città e delle persone prima di sbattermi addosso di nuovo la porta nera e piano piano come due lanterne di carta bianca sul vento notturno le due donne si mossero sulla loro vita e sul loro passato e sulle radure dove scintillavano le città di Dende e le addostrate che sarebbero sfilate fino all'albi camion di provviste rimasero sospese a lungo su tutto questo stanno salutando il loro mondo l'orologio del tribunale stava scoccando sonoramente le 11.45 quando simili a Ragnatele che calassero le erite alle stelle scesero a toccare la strada illuminata dalla luna davanti a casa di Janice la città dormiva e la casa di Janice aspettava che entrasse da cercare il loro son che non era là ma siamo noi chiese Janice Janice Smith e Leonora Holmes nell'anno 2003 sì Janice si leccò le labbra e teresse le spalle vorrei che fosse un altro anno 1492 1612 Leonora sospirò e il vento fra gli alberi sospirò con lei allontanandosi è sempre il Columbus Day o il Plumut Rock Day e che mi venga un accidente se so che cosa possiamo farci noi doni restare zitelli o fare quello che stiamo facendo cioè andare a sposarsi in un altro mondo aprirono la porta della calda casa notturna e i rumori della città morirono lentamente nelle loro ore quando chiusero la porta il telefono cominciò a suonare perché vi ricordate c'era una telefonata importante una telefonata luce che arrivava direttamente da Marte la telefonata gridò Genis correndo Leonora entrò nella stanza dietro di lei e già Genis aveva staccato la cornetta e se l'era portata all'orecchio pronto pronto e il centralista di una città lontana attenti perché qui è un capolavoro c'è il tempo lo spazio e il tempo che si combinano in un unico passo strepitoso che mette insieme vicinanza e distanza finito e infinito dicevo e il centralista di una città lontana stava manovrando l'immesso meccanismo che avrebbe collegato due monti e le due donne aspettarono una seduta e pallida l'altra in piedi ma altrettanto pallida china su di lei vi fu una lunga pausa piena di stelle e di temi una pausa d'attesa non dissimile dagli ultimi tre anni per tutti loro e ora il momento era arrivato ed era il turno di Genis di telefonare attraverso milioni e milioni di miglia di meteore e comete correndo via dal sole giallo che poteva bollire o bruciare le sue parole o incenerire il loro significato ma la sua voce passò come un ago d'argento attraverso tutto uscendo punti di discorsi attraverso la grande notte riverberando dalle lune di Marte e quella voce trovò la strada fino a un uomo in una stanza in una città lassù su un altro mondo a cinque minuti radio di distanza e il messaggio di Genis fu siamo no a centoquaranta milioni di chilometri dal sole e duecentoventicinque milioni di chilometri dal sole queste dovrebbero essere le distanze astronome ciao Will sono Genis inghiottino dicono che non ho molto tempo un minuto chiuse gli occhi vorrei parlare lentamente ma dicono che devo parlare in fretta e metterci dentro tutto così voglio dirti ho deciso verrò lassù domani parto corrazzo dopo tutto verrò lassù da te e ti amo spero che tu mi senta ti amo è passato tanto tempo la sua voce si insinuò in quel mondo invisibile questo è il messaggio che parte parte e è connesso a questo telefono luce che attraverso il tempo e lo spazio deve portare molto molto lontano questo messaggio d'amore la sua voce si insinuò in quel mondo invisibile ora col messaggio trasmesso con le parole dette Genis avrebbe voluto richiamarle censurarle riordinarle formulare frasi più eleganti una migliore spiegazione della sua anima ma ormai le parole pendevano tra i pianeti e se per qualche radiazione cosmica avessero potuto essere illuminate se avessero potuto prendere fuoco in una vaporosa meraviglia là il suo amore avrebbe illuminato una dozzina di mondi e trasformato il lato notte della terra in un'alba prematura questo pensò Genis ora le parole non erano più sue appartenevano allo spazio non appartenevano a nessuno finché non arrivavano e viaggiavano a 186.000 miglia al secondo verso la loro destinazione sarebbe praticamente la velocità della luce in miglia che cosa mi dirà che cosa risponderà nel suo minuto di tempo si chiese Genis giocherellò con l'arrocio d'apporso lo ricirò e il telefono luce nel suo orecchio gracchiò e parlò nello spazio con sfigorie elettrici e danze e errori udibili ha risposto sussurro all'eonora sss disse Genis chinandosi come se stesse male poi la voce di Will arrivò dallo spazio lo sento grido a Genis che dice la voce richiamata da Marte si portò nei luoghi dove non c'erano alberi e tramonti ma sempre notti con un sole in mezzo all'oscurità e da qualche parte tra Marte e la Terra tutto il messaggio andò per tutto forse in una folata di gravità elettrica provocata dal flusso veloce di una meteora o per un'interferenza con una bioggia di meteore argente in ogni caso le piccole parole del messaggio le inimportanti parole del messaggio furono spazzate via e la voce di Will arrivò con un'unica parola che il testo mette tra tre punti di sospensione davanti e dietro la parola amo sembra quasi una poesia un frammento di poesia di Petrarcho o di Dante dello stil novo dopo di che fu di nuovo l'immensa notte e il suono delle stelle che giravano e dei suoni che bisbigliavano tra loro e il battito del cuore simile a un altro mondo nello spazio che riempiva il ricevitore l'ha sentito chiese Eleonora e sì che l'ha sentito perché ha sentito la sua voce che diceva la cosa più importante solo la cosa più importante che serve a farla veramente andare via e superare la paura di andare in un altro mondo che cosa ha detto Janice riuscì solo a fare un cerno d'assenso che cosa ha detto che cosa ha detto gridò Eleonora ma Janice non poteva dirla a nessuno era troppo bello per poterlo raccontare rimase a ascoltare ascoltare quell'unica parola mentre la sua memoria la ripeteva rimase a ascoltare mentre Eleonora le toglieva dalle mani la cornetta senza che lei se ne accorgesse per rimetterla sulla forcella e poi Janice e Eleonora erano a letto con le luci fuori il vento notturno che alidavano nelle stanze l'odore di un lungo viaggio nel buio e fra le stelle e le loro voci parlavano del domaine che non sarebbero affatto stati giorni ma giorni notte di un tempo senza tempo le loro voci si distorsero nel sonno nei pensieri della veglia e Janice già qui sola nel letto e così che era cent'anni fa si chiese quando le donne la notte prima giacevano pronte al sonno o non ancora pronte nelle cittadine dell'est e ascoltavano lo scalpitio dei cavalli nella notte e lo schiccolio dei carri con estoga pronte a partire e il mugito dei puoi sotto gli alberi e le grida ai bambini già soli prima del tempo tutti i rumori degli arrivi e delle partenze nei campi delle profonde foreste insomma sta parlando del far west della colonizzazione del far west con i fabbri che lavoravano nei loro infermi rossasti fin oltre mezzanotte e l'odore del prosciutto e dell'ardo affrontati per il viaggio e la pesante sensazione dei carri vicini simili a arnali carichi di merci con l'acqua nei secchi di legno pronta a essere riversata nelle praterie e i polli isterici nelle ceste appese sotto i carri e i cani che correvano nel deserto che precedeva i carri per tornare indietro spauriti con negli occhi un'immagine di spazi vuoti era così dunque tanto tempo fa sul bordo del precipizio al limite dell'altura di stelle al loro tempo odore di bisonte al loro tempo odore di razzi e così dunque che era e decise mentre il sonno assumeva il sogno per lei che sì certo inegalbimente sì così era stato e così avrebbe continuato a essere sempre bellissimo racconto l'immensità di Ray Bradbury Grazie a tutti